attenzione il nulla cosmico la rara peggiore del set orso balosso orso balosso inkling summoning inkling summoning orso balosso penso super giù orso balosso ma che lezione lezione vorrei far spiccare lezione su questo si può eh cioè è fattibile come cosa però rossacchio è orsacchio dai rossacchio poetico rossacchio è poesia è un altro rossacchio non è poesia combat professor bianco verde selesnia aggro con orsacchio e professore dai doppio orsacchio non si può perdere se esce orsacchio prendo un altro sacchio qua interessa il problema è che orsacchio io lo picco su tutto capito cioè ci deve essere il professore 2-3 per mettermi in crisi ci deve essere la 2-3 4-1 a 2-3 volare come first pick e allora potevo fare professore bianco in tu professore bianco ma se esce il professore verde prendo il professore verde in tu professore verde visto che bianco verde purtroppo non è una gilda morsacchio 23 orsi e 17 der si in pieno stile sarulfo mitica ingiocabile biomatematico bruttarello dovrei prendere le mental masterpiece non è brutto però terzo pick esagerato bello questo vabbè ho un bel pacchetto le cose dei cose giuste non ci si può lamentare è un pacchetto buono questo ci sono veramente qualità elevata una mitica mi hanno passato una mitica che ti lamenti ti lamenti le mental masterpiece è troppo più forte di questo questo è molto è abbastanza buono abbastanza buono però terzo pick non è eccessivo quindi prenderò le mental masterpiece il nulla cosmico però c'è sign in blood e rise of exodus mi sa che qua non si fa verde blu rosso quindi questo pick sta andato sprecato o prendo sign in blood e rise of exodus intanto pre picco questo e ci penso un attimo questa più carta da aggro secondo pesca 2 scarta 2 non c'è pesca 2 a 2 mana è forte è forte però forse previsco rise of exodus 17 der scelgo te non ci arrivo vabbè era più forte rise of exodus ho fatto bene improvvisamente il blu dalle retrovie esce il blu dal nulla al blu in 60 secondi nicchia professore così quinto pick boros switch professori li voglio giocare che cazzo prendo qua prendi biocatasi il matematico si questo biocatasi nulla madonna santa c'è il bianco open no abbiamo capito c'è stati break qua bo verde non ne sta passando abbiamo preso due professori e basta comunque forse non devo fare verde cazzo sto draft di merda necrotic fumes prendo qua per la side avrei dovuto fare bianco credo boros ma che penso bianco avrei dovuto fare molto forte dai di blu non ho preso una carta prendo ant for specimen cazzo me ne frega di faccio verde no penso che faccio verde nero prendo ant for specimen quasi prende ant for specimen switcha colori minchia c'è pure questo vabbè ma questo è molto buono però non credo di volere needlehorn drake non dovrei fare verde orzo è aperto probabilmente intanto prendo questo e comunque forte anche in verde nero altro ant for specimen sopreghiamo veramente orzo nascita veramente se piccavo first piccavo in clink summoning erano a cavallo donato va bene prendiamo un altro ant for specimens bianco è abbastanza aperto lice fanatic brutto verde a destra stanno facendo verde e blu a destra per tipo per forza prendo spectre of the fence bianco nero è open cioè per se mi sa che dobbiamo abbandonare gli orsi ma zia abbiamo sprecato i primi tre pic è orribile no pure questo sì boh questo eh ho capito quattro quattro pic no quattro pic spregati si pure il biomatematico vabbè ma cosa c'era non c'era niente no nel pacco del biomatematico non c'era niente però quello non questo qua non è sprecato perché non c'era niente show of confidence buonasera mappet 92 facciamo orzo ora vediamo ora vediamo sta porcheria sperando di non giocarla abbiamo sprecato un pochino ho capito orso orso e poi zero carte verdi che ci posso fare io questo bomba rossa bombe blu e verdi solo bombe blu e verdi lascio of malice devo piccare qua ma io già lo voglio abbandonare il professor cioè non è detto non è detto vabbè però carta verde forte qua non c'è questo che è fortissimo però blu non abbiamo preso una carta non ha senso andare a blu ho l'hash of malice o blackish truge ho l'hash of malice prenderesti il 4-2 anche il 4-2 bello va bene prendiamo il 4-2 mi è convinto se giochi soprattutto se faccio verde nero è forte il 4-2 io qua potrei prendere o questo o pest summoning il problema è che ancora non ho deciso se fare verde nero o bianco nero se picco questa sicuramente la gioco mi metto sul sicuro picco carta nera facciamo mono nero e chi si è visto si è visto mono nero via c'è field trip eh questo è il bico qua adesso dobbiamo decidere qua devo decidere qua devo decidere questo pacco lo dobbiamo decidere se fare bianco nero o verde nero che in caso di bianco nero prendo questo vado a prendere field trip però so già che a destra poi non mi arriverà un cazzo net facciamo minchia perdere due orsi non voglio perdere i due orsi basta terzo orso alla faccia tua questo non lo gioco voglio un altro orso voglio un altro field trip abbiamo bisogno di lezioni anche terzo orsacchio o field trip si è piccato in automatico sto stronzo come di consueto qua c'è la lezione abbiamo già uno due tre quattro learn non credo di poter prendere mage duel qua qua dobbiamo cominciare a piccare lezioni a non finire perché ne abbiamo ben zero avendo quattro learn mi sa che dobbiamo iniziare ora quindi prendo anche questa purtroppo sopra mage duel eh lo so duello eh ragazzi però non voglio rischiare di non avere abbastanza lezioni ho necronic fiume si ho capito e poi secondo me purtroppo lezione un altro field trip tanto bianco nero poco open mi dicono prendo un altro field trip io lo prendo non me frega un cazzo prendiamo lezioni a manetta voglio innumerevoli lezioni nella mia vita ma fa tutto un po' schifo due bruttino ho professor su warning non è eccezionale forse questo un buff un guadagnare punti vita non è male forse questo è forte in golgari quarto orso quarto orso no lezione quarto orso no lezione si vai blu blu oven improvvisamente vediamo questo schifo prendiamo questo schifo è un rega moment improvvisamente splash blu verde blu nero forte lo picco vediamo si può splashare come carta lezione che se splashiamo il blu possiamo giocare nella invocation ottimo direbbe parensu questo ma non credo di volerlo giocare questo per il volt si ma è fortissimo questo è tipo il trick più forte forse del set sai bomba di micolori ma va a cagare tu e codi inkling summoning quanti learn abbiamo uno due tre quattro cinque learn penso serenamente inkling summoning giusto o no lascio male se ne abbiamo ben zero male abbiamo poche rimozioni sto deck però tendere a prenderlo se non è detto li giocheremo scienze applicate vediamo scienze applicate ammazza che pacco di merda ammazza che pacco di merda deadly brew devo prendere che schifo mi fa abbastanza schifo il patto pure potremmo prendere questo hunt for specimen ne ho già due abbiamo già poche lezioni non so se è il caso questo doppio verde mi sembra un po' esagerato non credo di volerlo quando il xpledge ma vuole doppio verde lo vogliamo veramente provare a giocare in questo mazzo ci farà incazzare tantissimo secondo me possiamo provare però possiamo c'è sembra il pick migliore a questo punto vogliamo provare super greedy va bene tanto ormai abbiamo fatto un mazzo di merda ci sta guarda quello che passa guarda quello che passa è scovazzo questo è forte distruggi ogni permanente non terra un costo di mano a 2 o meno questo fa schifissimo no? ma non è che ci sia molto di meglio nel pacchetto ti salva da aggro dai questo fa schifo fa troppo cagare sta carta forse prendo professor su warning dai warning warning oh mortali di spear one times laghi bitch prendiamolo sempre la solita rara del merda era in un momento un altro ma non c'è uscita la lezione ma al comune ne abbiamo viste di scienze applicate madonna santa che sfiga boh un altro removal un altro lesson removal boh si eliminazio ma sei pazio ottimo eliminazio questa ma non basta per non basta questo che fa veramente vomitare il cazzo però se vogliamo prendo campus in caso lo gioco lo stesso come scryland perchè è la prima scryland che prendo un altro deadline invocation secondo me è forte sto deck con doppio field trip sono le nostre win condizio verde blu improvvisamente open sto non credo di volerlo vediamo non comune per il vault sto schifo no tanto non lo gioco ne ora e ne mario quindi non comune per il vault ma alla fine il mazzo non è venuto bruttissimo no? pop quiz improvvisamente verde blu open altro trick che spero di non giocare questa mi sa che ce la possiamo scrivere nel ghiaccio ottima la terra verde nera quindi raffanculo quandrix campus gioiamo la terra verde nera questo lo possiamo togliere 1 2 3 4 5 lesson siamo arrivati ad averle abbiamo messato un mage duel pur di accaparrarci le lezioni della magia non comune per il vault uscire un biancolero fortissimo abbiamo visto molte carte ma carte bianche ne abbiamo viste molte forti uscire un biancolero più forte di questo rare incredibili non ne abbiamo viste ma mi sa che il mazzo è montato siamo arrivati risicati risicati alla fine dobbiamo giocare tutte le carte tutte le dobbiamo giocare inutile che qua faccio finta di costruire il mazzo abbiamo molto lesson questa cosa mi fa felice vabbè pentacolor ma perchè mi dice pentacolor? ma sei scemo ah perchè ho piccato carte di tutti i colori ma che cretino vabbè pentacolor con tanto di orso o balos vediamo un po cosa avviene contro sandermander sandermander happy days ottimo no per niente però lo tieni penso di sì sì dai abbiamo innumerevoli carte fortissime nel mazzo che possiamo pescare entro i primi tre turni ma è vero conviene più prendere uno sbooster box morizzonti odierni o un fat pack cos'è un fat pack? vuoi che fareste anche nell'ottica un possibile ritorno economico ma secondo me moderno rason 2 sarà una bomba da sbooster cioè da comprare anche da mettere da parte al posto di wandering spledge mage cioè è difficile giocare abbiamo molte spell nel mazzo eh però l'avversario parte con un adepto potrebbe essere un attore pagato speriamo il verde l'abbiamo un po' forzato però comunque sì abbiamo carte abbastanza forti attenzione timur timur con adepto picchia è successo vediamo cosa propone il loop ah così ah così proprio hai deciso che così deve essere interessante perza quasi eliminazio spara pure planeswalker si si mi dispiace ma spariamo anche lo facciamo turno dopo questo pure spara planeswalker target non land permanent vuoi fare ultimate guadagni l'emblema quando lanci l'emblema lo rifai sarei molesto allora c'è un problema qua mi piacerebbe giocare in curva però abbiamo un solo mano nero conta le cose diciamo così va l'importante è non farlo ultare io voglio fare orso turno dopo va a cagare va toglilo per i coglioni via morto oro tanto questo è il peggior turno 3 della storia di magic quindi vaffanculora via turno dopo turno dopo facciamo orso non voglio vivere una vita in cui turno 4 ho un orso e non faccio orso quindi va a cagare ottimo attore pagato attore pagato confermo confermo attore pagato avversario isola in cima attenzione gli serviva voleva pescare terra il ragazzo chissà cosa c'ha ora costo 5 come minimo la mitica quella quandrix 5-4-4-4 volare mi aspetto vai buon pomeriggio a lei ecologico come sta? un nemico io vedo l'ingranaggio in alto a destra ma che pazzo che vuol dire attore pagato? spiegate al dottore qui in chat cosa vuol dire attore pagato grazie spiegateglielo che non glielo spiegate esattamente mai ho fretta di ucciderglielo ma si va no vuole così oh no ma si va esplodi via o 4 via jump jump un orso che ti jump addosso come è successo a Leonardo Di Caprio dai che vinci l'Oscar se ti fai saltare un orso addosso dai dai che funziona l'orso addosso per vincere la statuetta dai vai vai perché non rispondete al dottor Kudru 81 che chiede cosa vuol dire attore pagato perché non rispondete che la tirate maledetti volevo farvelo spiegare a voi lo devo spiegare io attore pagato vuol dire che probabilmente è stato prezzolato l'avversario per convincere diciamo per farmi vincere no facilmente la partita è una una burla una burla una burla attacchiamo con orso balosso jump ma si impara para ma se io lo faccio e mi ritorna l'orso in gioco dico mi dispiace troppissimo questa cosa se no dai con due mani faccio orso che me frega lo faccio no? la voglia penso ci sta questa cosa no? orso balosso un altro un altro vai pesca un'altra terra però eh lo so tipo nera sarebbe ancora meglio come stanno andando le sue imprese su magia? molto bene devo dire molto soddisfacenti potrebbe avere snow day opponent vediamo se è vero non ce l'ho in serio decide di non ciclare la terra decide di lanciarla sulla board ho detto lui contenti tutti va bene lui adesso ha detto penso che ciclerà no? hai giocato terra quindi vorrai ciclare no non vuole ciclare ok mi voleva giocare terra proprio ok ho capito scusa ok poi orso balosso è incredibilmente potente infatti ero sicuro di far spiccarlo orso balosso orso balosso un altro orso balosso orso balosso vedo che è contento di far spiccare le comuni capito? cioè vuol dire che è veramente potente questa carta quando sei felice di far spiccare le comuni vuol dire cazzo che vuol dire cazzo che vuol dire hunt for specimens il cazzo si ingrassa questo non lo possiamo prendere perchè non lo possiamo giocare adesso che schifo ah si va se faccio posso fare questo su un pedino 3-3 però che schifo me lo farà bene ho pensato un attimo e poi ho deciso che è meglio attaccare solo con questo facciamo questo schifo così i segnalini li mettiamo qua sopra così peschiamo in futuro ah finalmente orso balosso morto in 3 2 1 scarta una ricca terra giociamo questo straordinario promis schifus ma da scrivere attore pagato? no non si capisce no un mazzo di merda se basta ecco si conferma attore l'avversario con la lettera di san paolo apostolo si conferma attore pagatissimo sono 3 4 5 6 7 8 9 10 se voglio potrebbe avere un masseremovolo a un certo punto dai giochiamo faccio così orto no passa vai orto attenzione colpo di scena l'avversario fa cose interagisce con me vabbè è traditional è certo che è traditional è certo perché volevo preservare la top 150 in limite mamma mia mamma mia peccato però peccato perché avevamo carte potenti PERZA comunque siamo riusciti a creare un mazzo che quasi solo composto da carte buone Mulligan credo sia un onesto Mulligan questo vabbè che devo fare posso giocare al gioco della magia posso ma non posso già è Mulligan a 4 questo Mulligan a 3 non lo voglio fare no keep 5 qua c'ho Mulligan a 4 Mulligan a 4 Mulligan a 5 Mulligan a 5 che tolgo 1 eeeh questo tipo evviva keep 4 di cui 3 terre togliere terra è un po' rischioso secondo me 3 terre è un orso 3 terre è un orso via 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 3 terre è un orso ah bene non importa 3 terre è un orso vai se pesco un ant for specimen l'abbiamo mandato sulla luna sulla già concede può ammugliare se pesco un ant for specimen ammuglia 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 ora mmm vai svolta aggro la svolta aggro la svolta aggro la svolta aggro ma lei è bravissimo ma lei è forte certo che sono forte sennò perché mi seguite scusate eh adesso mettete in dubbio la vostra intelligenza se dite che io non sono forte sennò che mi seguite a fare per sentirvi più bravi per sentirvi forti vabbè dai quanti ne abbiamo nel mazzo qualche 3 quanti ne abbiamo ant for specimen abbiamo 2 vabbè dai 2 che esprime tenerezza a me una volta il gioco mi voleva così bene che mi pescava dal mazzo creature potenti ma delle terre poterle schierare neanche l'ombra eh capita amico mio a volte purtroppo questa vita avviene ma meglio tutto attacco veramente ho detto che sono indeciso ma sono pazzo ma sono per un attimo sono stato indeciso te lo giuro per un attimo sono stato indeciso è che la persona 23 siamo on the draw capito cioè non avrebbe quasi senso ovviamente non parlo non avrebbe quasi senso però che fa non saluta Laura ma Laura pensavo che non ci fosse pensavo fosse andata via pensavo che non fosse più cosa mia finalmente mi sono liberata e ci sono ma io chiedo sempre di lei veramente quindi non faccio adesso finta che non sa che io chiedo sempre di lei picchio picchio come sta? come va? andrà per il il mazzo? il mio mazzo? non il suo il mio mazzo da Vinza a Perza da Perza a Vinza è vero Vinza a Perza Vinza a Perza Vinza a Perza vediamo se è Vinza o Perza dipende dal suo turno se fa Pest Summoning ok fa Lettera di San Paolo Apostolo più Pest Summoning un buon turno onestamente un buon turno un po' che questo turno un po' mi preoccupa devo dire turno abbastanza preoccupante della maggiore Basta Terro Basta Terro Basta Basta stiamo esagerando mi pare improvvisamente c'è un'esagerazione mi pare io onestamente ti vengo a trovare con l'orso Balosso te li piglia tutti 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 l'ottimo Promising Dusk vorrei pescare un'altro Hunt for Spacement o comunque una una carta con Learn ne abbiamo cinque il mazzo adesso quattro sono rimasti di qualcosa ci serve un Learn ho storia di difficoltà con questo Mullen a quattro attenzione Vortex Runner improvvisamente col ultimo è stato molto forte in realtà molto forte pesco una ricca terra però per fortuna è una Scryland una scry scry spesa fantastica mi sa che si picchia con l'ottimo Inkling Summoning Boring Books dai lo sappiamo che ce l'hai ah no? beh beh buono buono ecco lo sapevo che ce l'aveva questo stronzo ve l'avevo detto io prima vi ricordi? vi ricordi che ho detto questa quinta terra la voleva a tutti i costi evidentemente avrà Tana Zirquandrix nel mazzo come faccio a indovinare esattamente ogni cosa? ditemelo no no ditemelo no no ditemelo no no ditemelo com'è possibile che io indovini esattamente tutto? ciao eeeh tre quattro cinque sei e una sette l'avevo detto l'avevo detto in tempi non sospetti il potere della vedenza la santa vedenza questo è travolgere se l'attacco capisce lo devo sottovalutare l'attore devo pensare che sei scemo completo e attacco tipo no si dai proviamo proviamo a farlo scemo faccio finta di attaccare con tutto poi ci penso ci penso l'attacco questo è brutto perché fa doppio blocco penso se hai imparato il doppio blocco l'attore in questione vediamo vediamo se ci casca attenzione che sei parente di morto eh fatto finta prima attenzione prima attacco con tutto poi mi fermo ecco lo sapevo vediamo se vabbè ma ci avrà una risposta vediamo lo faccio fa due per uno alla fine lui eh perché questo non mi ritorna perché è una pedina c'ha burin books niente mi ha arato mi ha arato persa via passo con seed vabbè abbiamo molte rimozioni nel mazzo stiamo per perdere ovunque qua eh tra una battuta e l'altra stiamo per morire è male anche attacca con tutto va bene vabbè abbiamo muligato a quattro ragazzi siamo ancora qui in vivi com'è possibile vi ricordo che abbiamo muligato a quattro in questa partita abbiamo pure flooddato in tutto ciò anche un buon flood e questo che si può parare quanto è buono ah tutto 4-4 diventa fortino tutto 4-4 cazzo era meglio se non succedeva questa cosa fortuna non travolgono vediamo cosa c'è in cima questo deve esplodere via la terra vabbè questo si raddoppia l'attacco fortino questo mi pare che succede sempre questo mi pare che succede sempre questo succede sempre sono 4-4-8 penso che si farà così vabbè dai siamo parenti di morto a breve boom 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 va bene tra l'altro questo mese non riesco a riprimare prime quindi sto senza sub ma si figuri ma che è un problema questo ah 24-24 niente non lo faccio non glielo faccio vedere quanti mi dica l'attore? molte tutte bicolor tutte in color vabbè l'attore ci può battere quindi dopo dopo ore e ore di prese in giro l'attore potrebbe mettere a repentaglio la nostra vita attenzione morto di mitica alla fine l'attore vince G2 ma perde G3 per creare saspes no insomma mi tocco mi tocco a pelle qua l'attore pagato male effettivamente sì alla fine mi ha battuto è che è tipo è tipo Batch di Quentin Tarantino no? che era stato pagato per cadere al tappeto alla terza ripresa e invece sei fotte vabbè stavolta non mullico però stavolta tengo addirittura 7 carte mi sento commosso quasi con un follow up incredibile questo schifo into questo schifo quasi forte direi abbiamo anche field trip nel mazzo mi pare di averlo visto giuro giuro che l'ho visto field trip rilucerante che da trample ah vero il 4-4 minchia pesante sì ma infatti potenzialmente mi può anche spanare il culo l'avversario eh potenzialmente c'ha c'ha le come dire ha tutte le carte in regola per potermi spanare il culo counterspell sull'ottimo promising dusk mage veramente ok male 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 molto male male questo ultimate subito così guardate che le rimozioni per i mostri ce le abbiamo vorrei pescare un orso non ci somiglia manco per il cazzo ecco vai purtroppo niente turno 4 male attore pagato attore persa fra poco altro che attore la lettera di san paolo apostolo vortex runner questo può fare il trick dei danni finali però sti cazzi c'è uno deve essere sorcery pure dai fa schifo via vorrei un balosso e anche io cazzo vorrei un balosso ma anche una terra dai a questo punto pure una terra mi va bene dai gioca sto maiale forza che non lo giochi mai bel mostrum un bel mostrum terra mi pare che ci piace assaglia assaglia mi piace assaglia allora rise of extus ho le line grassezza qua di 66 di grassezza di grassume potrebbe avere burin books se non la 66 dai vai vai passo per far poco un enorme gaudi ho stessato una mia bru notturna di giun darkness una darka command e strega di streaks vero? bene bene perza sono contento prima ho fatto una partita e abbiamo vinto con rakdos l'ho modificato ho messo ovviamente collagans command cram sessio secondo te è meglio fare best of one o best of three in draft? best of three secondo me è più facile però è anche più rischioso tazzerre quandrix che fai non ce l'hai? e che fai non ce l'hai? complimenti per averlo fatto prima di questo complimenti secondo me ci saluta? si secondo me ci saluta esattamente ora togliamo cram sessio e poi cosa pigliamo di bello? tra poco mettete una 67 una 55 forse una 66 tra poco lui se ne va a 12 sempre fra poco sempre fra poco penso che nel dubbio sia corretto prendere rimozione possiamo prendere anche questo? volendo io credo che rimozione sia più corretto no? se prendo il buff andiamo rimozione dai prendo removal removal botta caro attore pagato che questa volta sta alzando la testa sta giocando un sacco di cose potenti field trippa era meglio di no altro removal nel dubbio si alla fine mi pare la cosa migliore i viccioni e cioè i pupazzi fastidiosi i pupazzi perché bloccano a vita il mio allegro 66 field trippa non c'è trippa per gatti non c'è trippa per gatti ma se io qua attacco qual'è il problema scusami scusa scusa se io faccio così che succede? para con un pupazzo vediamo para con un pupazzo il mono pupazzo lo hai fatto ti presento so frati vai so frati frati so mmm non m'ha convinto sono 4 e 3 e 2 e 6 che palle secondo me questo gli facciamo pescare la figurilla e pesca che non peschi mai e pigliati questi frattali in bocca che non te li pigli mai davanti è bello questo guarda come guarda guarda proprio incagnesco bruttino lo specter bruttino dice in questo mazzo ma ci siamo arrivati a per miracolo a 40 carte che voleva di più intanto un 19 e 19 giocamelo però giocamelo sempre due mitiche a partita che non me le giochi mai mi pare che non me le giochi esattamente mai almeno due a partita giocamelo per favore te lo chiedo lo togliamo? esattamente per sempre qui potrebbe avere burin books qua se ha burin books mi ammazza questo vinza ci vinza ugazzo qua che faccio? attacco con tutto ci provo? potrebbe non avere burin books no? potrebbe per una volta non averlo? cosa ha fatto il turno prima lui? con sei mana ha messo il grasso devo aspettarmi al 100% per forza il dottor burin books? si o no? vedo se c'è la pace qua bisogna decidere se attaccare anche col 2 e 2 oppure no perché se ha burin books blocca il 2 e 2 mi toglie una pedina e va a 2 e perdo una creatura gratis vabbè potrebbe anche non averlo dai e andiamo curazio inza inza e invece incredibilmente forte zio celofan l'ho appena giocato anche io ero un po' scettico per per il fatto che potesse essere un po' lento inza contro l'attore pagato ricco di miti che alla fine l'attore pagato non è che era così scemo l'attore pagato